L'ideale è farci diriggere da Roberto, perché Roberto era una persona prima di tutto dotato di grande intelligente, secondo loro di grande sostituità. E quindi ti diceva le cose sostanziali, le cose che tu dicevi aveva ragione, capite? Cioè, ci tirava indietro, domande ad un attore, interveniva solo quando era necessario e i suoi interventi erano sempre giusti. Tanti dove gli dico, perché no, il regista fa tutte cose, niente di tutto questo. Tutta la preparazione si è svolta in un clima di assoluta, quasi irreale tranquillità. Il che mi ha arrivato molto. Devo dire che io vorrei ricordare anche il fatto che c'è stata una persona, che è una ventina ferica, fatto, diciamo, da nostro angelo per tutto questo periodo, con un lavoro preciso, perché poi è stata determinante nel tirare le fila di tutta. E poi anche a Carlo Degli Esposto, che è stato presente con noi, in un modo comunente, a Marco Cingoli. E mi piacerebbe, voglio dire, ricordarlo, perché poi non ci saranno l'occasione di farlo. C'è Hubert Vescapper qui, che è un mio collaboratore, che è venuto anche in questa occasione. E' un po' di giallo del suo cognome, che è un po' di ricorda. E' un bellissimo ingegnere del suono. Insomma, vorrei ricordare tutti quanti quelli che sono stati con noi e permettere questo lavoro. Ecco, c'è anche il direttore della fotografia. Grazie. Grazie.